È stato presentato con una enfasi forse eccessiva sul piano mediatico, era molto discusso. Si sono promessi nel documento risultati importanti, forse calcolati per eccesso e con riforme che sembrano ancora solo abbozzate. Su questo argomento abbiamo invitato qui a Cernobbio oggi Oscar Giannino, opinionista di Radio 24. Prego Oscar, prego di accomodarsi al podio per sentire da un opinionista che dice quello che pensa, quali sono le sue valutazioni su quello che sta succedendo in Italia e su queste questioni. Subito dopo si accomoderà con noi e proseguiremo il dibattito. Grazie. Grazie, grazie Ivo, grazie a voi tutti per aver pensato a me. Bene, naturalmente non è tanto il giornalista che parla, perché i giornalisti sono come sapete, dopo gli economisti da quattro anni a questa parte, sono al vertice della categoria meno credibile al rispetto. Però è più che altro lo studioso di economia, perché poi in realtà oltre agli studi in legge e a volare in economia ci sono due master in America e condivido un po' di modelli e criteri interpretativi con quelli con i cui ho studiato e soprattutto con i professori con cui ho studiato. E diciamo che appartengo a una scuola minoritaria nel nostro paese, questo lo dichiaro subito in maniera tale che ci intendiamo su quello che sentirete dire da me e probabilmente a molti di voi potrebbe sembrare un po' singolare, la mia è una scuola monetarista, offertista, non sono uno statalista, non sono un keynesiano, ergo potevo fare solo giornalista, non è che potevo andare all'università o fare qualche cosa altro. Allora, partiamo da questo decreto di cui Ivo Ferraro prima di me ha accennato. Allora, io insieme a molti giovani studiosi, alcuni giovani studiosi, abbiamo messo in piedi da qualche anno a questa parte l'Istituto Bruno Leoni, che è un think tank economico che lavora proprio sui diversi segmenti del mercato e che è diventato quest'anno già il secondo think tank italiano nella gradatoria mondiale stilata dalla Philadelphia University, il secondo in Italia ovviamente, dopo lo IAI, quello che si occupa di affari internazionali, quindi insomma io sono molto contento di questo. Noi facciamo da 11 anni a questa parte, ogni anno quando c'è il rapporto curato dalla Heritage Foundation e dal caso di Trich del Wall Street Journal, c'è un rapporto che analizza tutti i 184 paesi del mondo, quindi sono quasi tutti e analizza secondo dieci criteri l'apertura del mercato in ciascuno di questi. Noi ne curiamo l'edizione italiana ovviamente e quindi negli anni abbiamo accumulato un po' di strumenti di analisi per capire quanto distanti siamo in ciascuno di questi settori dal paese che noi prendiamo come benchmark, come quello di riferimento, perché ha il mercato secondo noi dal punto di vista regolamentare, dal punto di vista della concorrenza che meglio si avvicina a ciò che in concreto, non idealmente c'è di meglio funzionante nei paesi avanzati. Ecco, questi sono un pochino i motivi per i quali mi sentirete dire alcune di queste cose. Cominciamo da questo decreto. Il decreto non è che lo dice Oscar Giannino, che il decreto Cresci Italia è un decreto sovrastimato nel suo impatto per l'output potenziale, cioè per la crescita potenziale del nostro paese. Sapete, avete detto sui giornali, che il governo ne stima un impatto fino a 11 punti di PIL nel decennio, cioè più di un punto di PIL medio aggiunto anche se in una soluzione temporale in cui il più verrà dopo quando attualmente entra al regime. Non si tratta di essere critici verso il governo, io poi mi sono anche abbastanza battuto nel mestiere che faccio ogni giorno, perché a un certo punto da metà dell'anno scorso all'autunno dell'anno scorso era evidente che noi avevamo perso credibilità internazionale, quindi un cambio di governo per riacquisire credibilità ci voleva, ma questa stima è una stima che è stata presa, fotocopiata, fotocopiata dai due vecchi papers precedenti, a due vecchie ricerche, a una delle quali avevo anche lavorato, perché è Italia 2015 di Confindustria che è uscita la scorsa primavera, e una precedente era una ricerca della Banca d'Italia che appunto stimavano effetti esattamente con quegli stessi numeri. Al governo hanno pensato bene di tagliare e incollare, mettere nella relazione dello stesso provvedimento. Peccato però che quella stima di output potenziale discendesse da un criterio molto diverso dalle misure che ci sono nel governo, cioè si diceva per ciascuno dei diversi campi che si indicavano tanto da parte della Banca d'Italia quanto da parte di quella ricerca di Confindustria, si diceva se noi per esempio spaccassimo l'integrazione, separassimo la gestione di reti rispetto all'offerta di servizio per tutti gli incumbent pubblici, cioè per le ferrovie, le poste, eccetera, eccetera, per l'enin, il gas e così via, se noi per esempio abbattessimo il valore legale del titolo di studio nella formazione, se noi elevassimo le esclusive e le privative che ancora oggi caratterizzano alcune professioni come quelle dei notai che hanno un radicamento nella storia del nostro ordinamento quando l'Italia era ancora una città agropastorale e quindi era necessario che ci fosse una figura professionale che facesse fede pubblica come quella che fa i notai, facesse un controllo preventivo di legalità, però nel frattempo sono passati molti decenni, l'Italia non è più quella e se elevassimo per esempio la privativa ai notai di molte categorie di atti, estendendole alcune agli avvocati, altre ai commercialisti, altre ai geometri per i tecnici, ecco faccio questi esempi per dirvi che quella stima di una crescita così elevata veniva da indicazioni che deliberatamente e volontariamente erano radicalmente all'opposto di come sono organizzati i mercati italiani, un po' trasversalmente in tutto e di lì veniva una stima di crescita potenzialmente così elevata, se voi prendete quella stessa stima e la adattate invece alla misura del crescitalia è di quanto meno un esercizio che dal punto di vista economico è dal mio punto di vista molto condannabile, perché questo è un governo che giustamente si batte per avere criteri di credibilità in sede internazionale e anche in sede italiana ed è giusto quindi che non ci deluda da questo punto di vista. Poi perché in realtà noi abbiamo articolato parecchie critiche, perché ci sono alcune cose nel decreto che dal punto di vista di chi è molto liberale e liberista e quindi ha l'impostazione che vi ho detto, non ho detto che bisogna condividerla, però le nostre impostazioni sono buone, per esempio la decisione finalmente dopo molti anni di promessa di separare SNAM, Rete Gas dall'ENI, poiché noi come consumatori, imprese e famiglie paghiamo questa integrazione verticale perché paghiamo i diritti a lungo termine di contratti di approvvigionamento, si chiamano take or pay, assunti dall'ENI importatore che ce li fanno pagare perché l'ENI ce li fa pagare attraverso il controllo della rete, però voi capite bene che disgiungendo una cosa è che l'importatore regga con le sue finanze, i suoi profitti, i sovraccosti a lungo termine delle politiche di approvvigionamento dalla Russia o dall'Algeria, altro conto è che le riversi con l'integrazione verticale della rete di distribuzione alle imprese e alle famiglie che consumano il gas, quindi per questo è utile fare questa roba, in generale è utile di solito per gli ex incumbent pubblici separare le reti dall'offerta di servizio perché altrimenti tu metti sulla rete dei sovraccosti che in realtà ti servono a economizzare nella struttura attraverso la quale tu gestisci i servizi. Ci sono delle cose da questo punto di vista buone, cioè quelle, ce ne sono altre che invece dal nostro punto di vista erano assai meno convincenti. Faccio degli esempi, in alcuni settori il governo interviene separando, spezzando le integrazioni verticali di catene, questo per esempio capita nelle assicurazioni, voi avete letto che c'è un pregiudizio sfavorevole nei confronti dell'agente assicurativo monocommittente e quindi ci sono una serie di prescrizioni per le quali l'agente assicurativo dovrà fare più offerte concorrenti, questo apparentemente può servire a immediatamente tradurre l'idea che quindi sarà più vantaggioso per il cliente, per il consumatore finale, però attenzione perché l'agente che deve diventare plurimandatario si deve dotare a quel punto a proprie spese di più piattaforme per fare delle proposte al cliente e le proprie spese, siccome non possiamo immaginare che la gente abbia chissà quali margini per finanziarsene senza recuperarle, alla fine è al cliente finale che vanno, quindi la mia idea è che bisogna fare più concorrenze senza entrare nello spezzare le catene verticali, da questo punto di vista, un criterio abbastanza analogo si fa per esempio, si segue nella distribuzione dei carburanti, per cui per i gestori di imprese, di stazioni di servizio che non facciano parte integrante delle catene ma siano autonomamente titolari di licenza, si possono avvalere fino a una certa percentuale, il 20% di approvvigionamenti diversi dalla catena alla quale appartengono, attenzione che anche in questo caso con ogni probabilità il costo marginale sarà quello più elevato, quindi non è detto che il costo aggiuntivo che questa scelta implica per il distributore si traduca davvero in un minor costo del carburante, in fasi nei quali sapete perfettamente, non devo dire a voi che siete un anello essenziale nella catena della distribuzione tra la produzione e la grande distribuzione, quanto il costo del carburante stia diventando un fattore che butta fuori dai margini precedenti e rischia di buttare fuori dal mercato decine di migliaia di piccole imprese italiane, quindi ci sono alcune cose che non ci convincono per niente, quello che ci convince ancora meno è la scelta che in alcune parti del decreto si fa in cui non si liberalizza, liberalizzare significa deregolamentare, semplificare, abbattere gli ostacoli all'ingresso in alcuni settori per figure che vogliono entrarci e non ci possono entrare, questo dovrebbe significare liberalizzare, non significa liberalizzare che lo Stato decida a tavolino come aumentare la pianificazione dell'offerta di una cosa che resta invece rinchiusa da privative, esattamente quello che si è fatto per i notai ed esattamente quello che si è fatto per le farmacie, liberalizzare i notai significa quello che vi ho detto prima, che ci sono molte categorie di atti che aveva senso 50 anni fa lasciare alla privativa di un notaio, oggi bisogna aprirle alla possibilità che vengano offerti da altre figure professionali, se lo Stato mi dice lascio il notaio così com'è e aumento a tavolino il numero dei notai, è ovvio che non sta liberalizzando, sta semplicemente aggiungendo il numero di coloro che avranno la firma più cara del mondo dopo quella di Picasso, nel nostro paese funziona così più o meno con le notai e così via. C'è anche un articolo di cui ovviamente voi vi occupate molto, me ne sono occupato anche io in trasmissione, che è un articolo che interviene esattamente nella catena della distribuzione italiana, io ci faccio solo un cenno perché magari ne parliamo dopo, è l'articolo 62 del decreto, non vi devo io illustrare quello che c'è scritto, nasce dalla volontà di tipizzare i contratti e dalla volontà prescrittiva che siano tutti iscritti e nasce con l'intento apprezzabile, in un paese in cui il ritardo dei pagamenti è diventato una tragedia per tutti, di fissare termini prescrittivi per i pagamenti. Naturalmente da questo punto di vista che lo Stato lo faccia nella catena della distribuzione, io capisco il Ministro che anche oggi è reintervenuto con grande energia attaccando la grande distribuzione e dicendo la grande distribuzione mi attacca perché vuole rimanere titolare del privilegio di pagare in ritardo chi vuole e magari alcuni settori della grande distribuzione anche di far pagare non solo le merci che gli consegni ma anche il diritto a poter distribuire attraverso di lui, perché sapete come funziona per alcuni pezzi della grande distribuzione. Vero è però che la mia opinione è che questo settore fondamentale in un paese che ha da anni consumi flat stazionari o negativi e in cui il problema dei margini e il problema della sussistenza necessaria per decine di migliaia di operatori, se noi pensiamo di tipizzarlo solo da una parte senza avere un'ottica complessiva di sistema, secondo me noi rischiamo di sbagliare complessivamente il bersaglio. Io capisco che il politico sia mosso da un intento apprezzabile, ma credo che l'effetto concreto sia molto diverso da quello che il politico si presuppone. Il problema è il ritardo dei pagamenti, scusatemi se faccio un intervento che può apparire paradossale su questo punto, forse lo Stato dovrebbe risolverlo innanzitutto cominciando da responsabilità che ha direttamente lui in quanto mancato pagatore, perché poi la verità è che noi sperimentiamo tutti i giorni nella nostra vita il fatto che non dobbiamo sgarrare, come è giusto neanche di un secondo, i tempi per l'adempimento dei nostri doveri fiscali, perché altrimenti scattano agi, interessi, sanzioni, eccetera, eccetera, e il problema è che io nelle mie due società in una ho clienti pubblici, nel mio caso siamo a un anno e otto mesi in cui non mi paga invece. Allora questa asimmetria, che è una asimmetria che è arrivata a pesare, le stime sono naturalmente sindacabili, perché noi non abbiamo una stima affidabile di ciò che lo Stato deve al sistema delle imprese e dei contribuenti italiani, è già il fatto di non avere una stima affidabile, perché lo Stato per il solo fatto di avere un rendiconto del proprio debito commerciale, sarebbe come indicare ai mercati che quello è il debito pubblico aggiuntivo, lo Stato non lo fa, ma cosa vogliamo comportarci come se quel debito pubblico aggiuntivo, quel debito commerciale che vale 5, 6, forse fino a 7 punti di PIL non c'è, perché per il momento lo Stato sta facendo così. Nel decreto, e questo io lo apprezzo molto, c'è stato un primo passo avanti sul pagamento dei debiti pubblici commerciali alle imprese italiane, ai fornitori del totale della pubblica amministrazione, lo sapete, sono stati resi disponibili 5,3 miliardi, di cui fino a 3 verranno pagati con titoli di debito pubblico, ma anche al decreto votativo, quindi in concreto non c'è ancora niente, ma il problema è arrivare a 70 miliardi, il problema è che da anni abbiamo proposto che siccome quel debito va pagato, va pagato, non ci sono cavoli, ritardarne il pagamento per punti di PIL significa bloccare un ganglio decisivo in un paese in cui i consumi sono flat e quindi da questo punto di vista non c'è ragione di comprensione verso un paese così indebitato che è meglio che faccia finta di non avere 5 o 6 punti di debito pubblico in più, dovrebbe cominciare a pagare innanzitutto quelli, anche perché perdonatemi, ma quando si trattò di recepire la direttiva comunitaria sugli obblighi di pagamento a 60 giorni, io stesso, e mi avvio a finire solo con altre tre considerazioni, io stesso insieme ad altri economisti, andammo all'epoca, il governo era diverso, c'era il ministro Tremonti, andammo a illustrare i termini della possibilità di contrattare in sede Eurostat e in sede di Consiglio europeo, perché la cosa non riguardava solo l'Italia, ma riguardava tutti i paesi in cui i paesi che avevano alto debito ed erano esposti alla danza degli spread tendevano a comportarsi tutti nello stesso modo, non c'è solo l'Italia, anche se l'Italia è quella che oramai ha una posizione record nei propri debiti non pagati, e illustrammo la possibilità di adottare una convergenza politica che poteva passare all'interno del Consiglio europeo, per cui si recepiva la direttiva, la si iniziava immediatamente a rispettare, cioè lo Stato iniziava a pagare davvero tutti i suoi debiti e la convenzione era che il debito pubblico aggiuntivo, che naturalmente emerge rendendo scontabile in banca il tuo titolo di credito commerciale, certificato, quello che lo Stato si rifiuta di fare e che consenta quindi a tutti di recuperare immediatamente la liquidità, non sarebbe valso per questa componente emersa di anno in anno per il rispetto del patto di convergenza europea che poi è diventato il fiscal compact firmato da poco, la possibilità per farlo c'era, semplicemente l'Italia, il governo di allora rifiutò di farlo perché diceva no, ci esponiamo a una pessima figura, ma qual è la pessima figura? Tu il debito ce l'hai contratto, com'è possibile che nei confronti delle imprese chiedi immediatamente tutto quello che ti si deve ed è giusto e dall'altra parte l'esempio che dai al mercato è quello di non rispettare la regola perché asimmetricamente dici che il tuo debito non c'è. Ecco, allora questo è quello che secondo me resta da fare da questo punto di vista, resta da fare tantissimo però, è meglio che tutti quanti entriamo in un ordine di idee, un paese che fa il 70, l'80% della sua crescita potenziale a breve solo dall'export industriale come è diventata sempre di più l'Italia in questi anni, cioè in cui la componente della domanda interna e dei consumi ha un apporto così trascurabile rispetto al PIL e alla crescita potenziale del PIL, siamo esattamente nella condizione opposta degli Stati Uniti che tradizionalmente aditiamo come un PIL che per due terzi dipende dai consumi interni, solo per il resto da deposizioni sull'estero, ecco un paese che è in queste condizioni, che è diventato il detonatore possibile dell'esplosione dell'euro. Grazie al cielo pare che siamo riusciti e sia riuscito a sventare questo rischio, perché l'Europa ha iniziato a ragionare diversamente, la buona notizia di oggi che l'accordo in Grecia c'è stato, gli spread hanno iniziato a scendere, ma è comunque un paese che ha un quadro di fronte a sé di finanza pubblica molto stretta per molti anni, in un paese così, o noi siamo convinti davvero di credere, di affidare il 70% di quel poco di crescita che sarà possibile fare solo attraverso l'export manifatturiero e industriale, oppure bisogna che cambiamo marcia, perché l'export manifatturiero e industriale potrà fare i miracoli che era riuscito puntualmente a fare anche negli anni di crisi, perché io ricordo a tutti che a settembre 2011, prima cioè che arrivasse sull'economia reale l'effetto dell'eurocrisi e che l'euro potesse esplodere, che era esploso da luglio in poi, e quindi c'è un certo ritardo temporale, ma a settembre 2011 la media di export italiano destegenerizzato era tornata a quella dell'aprile 2007, cioè 31,4 miliardi di euro di export mensile. Questo malgrado la crisi terribile del fine 2008-2009, malgrado tutto quello che sappiamo della botta di disoccupazione, di necessità di ristrutturazione del sistema industriale italiano, però malgrado tutto questo un miracolo apprezzabile era avvenuto, perché il miracolo apprezzabile è che si deve alle 5 mila imprese del quarto capitalismo di Mediobanca, alle 215 mila che esportano e alle 15 mila imprese che controllano almeno due branch in due paesi diversi dall'Italia. Ma se noi ci affidiamo come modello solo a questo significa che tutto ciò che siamo in grado di ottenere nella migliore delle condizioni internazionali oltretutto è una crescita limitata tra lo 0,8 e l'1,4, l'1,5 se le cose vanno molto molto bene, mentre noi sappiamo che rispetto al ritardo accumulato che abbiamo, rispetto al fatto che abbiamo una partecipazione al mercato del lavoro che è di 55 punti e inferiore al 56% quando la Germania sta al 72%, per colmare tutto questo, cioè idealmente per un'Italia che arrivi al 2020 ad avere non dico 40 milioni di occupati ma almeno 35 milioni e non 10 milioni in meno come oggi, anche se poi con il nero bisogna metterne qualche milione in più, per avere tutto quello noi dobbiamo radicalmente occuparci del problema della domanda interna, cioè dobbiamo radicalmente occuparci del problema di chi è poco produttivo se lavora per il mercato domestico, il settore pubblico per essere chiari, non ce l'ho col settore pubblico ma le 9 mila imprese controllate che offrono servizi pubblici locali tra i due terzi e i quattro quinti in perdita, lo dicono il loro conto economico qual è la loro efficienza e produttività, ecco quindi non ne faccio una questione contro i dipendenti pubblici però è così, bisogna mettere nel mirino i grandi gruppi o i piccoli o i medi gruppi che lavorano a riparo, perché c'è anche questo nel mercato, di tariffe, prezzi, costi, gare truccate del settore pubblico perché c'è un bel pezzo anche di impresa che si avvale di tutoraggio improprio da parte della macchina pubblica ma il problema è che bisogna fare respirare, incentivare fiscalmente dal punto di vista contributivo chi costituisce dalla parte più alta alla parte più bassa della catena distributiva la spina dorsale dei consumi italiani, questo è esattamente quello che non si riesce mai a mettere al centro dell'agenda nazionale e ho concluso quindi semplicemente dicendo che da questo punto di vista dopo tanta attenzione messa sulla finanza pubblica che è sacrosanto abbiamo solo cominciato con questo governo e bisognerà continuare con lo stesso passo per anni, due sono i pilastri fondamentali se questo paese vuole crescere e inoltre nelle tante riforme che bisogna fare, il mercato del lavoro io mi auguro che davvero entro 30 giorni si chiuda e si chiuda con una prospettiva che consenta per esempio le ristrutturazioni di impresa, ci sono tanti esempi di come i paesi più avanzati hanno toccato tutti i punti più tradizionalmente più tabù italiani, da quelli dei licenziamenti a quelli di circoscrivere l'indenità a chi perde il lavoro perché bisogna sostenere il reddito di chi perde il lavoro ma non bisogna con questo confonderla con il sostegno alla difesa di posti di lavoro dove erano e come erano come sempre invece abbiamo creduto di poter fare in Italia, ma la questione è che oltre a tutto questo e oltre a chi esporta, che bisogna aiutare, il problema è che quello che è mancato nel nostro paese e che manca ancora secondo me è l'attenzione da dare alla domanda interna, per essere chiari perché la domanda interna si è levi di contributo all'output potenziale e noi abbiamo bisogno di più potere d'acquisto da parte di chi spende e questo significa innanzitutto che il fisco e la parte contributiva deve mettersi una mano sulla coscienza e con la delega fiscale il cui esercizio questo governo si è impegnato a fare entro pochi mesi deve concentrare su meno tasse e contributi al lavoro la possibilità di rimettere in tasca a chi altrimenti avrà sempre meno da comprare perché in quel caso è soprattutto lo Stato che glielo leva, punto numero uno. Punto numero due ci sono le imprese che stanno nella catena di distribuzione. Io dico che quello che c'è nel decreto e ho finito secondo me è per il momento una cosa che aggrisce un problema ma che non comprende la complessità di tutta la filiera, cioè delle grandi aziende produttrici, di chi fa trasformazione, di chi ha il metro, il controllo del mercato perché fa distribuzione tra la parte alta e la parte poi della grande distribuzione. Sapete meglio di me che cosa è avvenuto in questi anni? Che l'effetto voglio dire di crowding out è stato esercitato soprattutto da chi ha in mano i grandi acquisti e da grande distribuzione. Chiunque conosca il settore sa che è così ma il problema è che se noi crediamo di risolvere questa questione solo tipizzando i contratti secondo me noi sbagliamo. Lo Stato ha molte responsabilità. Prima di venire a dire però come bisogna scrivere i contratti paghi i suoi debiti e levi molto del suo carico da parte di coloro che sono le più forti vittime che sono quelli che prima ancora di capire quali prodotti ci sono sullo scaffale e se voi riuscite a portarglieli la verità vera è che hanno meno soldi, sempre meno soldi per decidere cosa comprare. Grazie. Grazie Oscar. Farei accomodare, come abbiamo detto, opinioni assolutamente libere e confronto di opinioni qui a Cernobbio come sempre. Farei accomodare i nostri ospiti. Partirei da Paolo De Castro che è già stato con noi, dal onorevole Gianni Letta, vicepresidente del partito Enrico Letta, è la forza dell'abitudine, vicepresidente del partito democratico, l'onorevole Bruno Tabacci, assessore al bilancio al comune di Milano e infine Sergio Veroli, presidente di Consumer Forum, l'associazione che raggruppa tutte le associazioni dei consumatori e anche il mondo delle imprese. Bene, abbiamo ascoltato diverse considerazioni nel corso dei lavori della mattinata e ora questo punto di vista è estremamente interessante e agguerrito di Oscar Giannino. So che Paolo De Castro ha un aereo e quindi dovrà lasciarci un po' in anticipo, quindi prima di entrare nel merito delle considerazioni sulle scelte di governo, entrerai su un tema specifico delle scelte di governo. Si parla e questa platea, il mondo delle industrie, sta guardando con grande attenzione al tema di una tassazione di quello che in modo molto generale e molto poco specifico viene definito junk food. È un provvedimento che fa discutere parecchio, che creerebbe grossissimi problemi non solo alle cosiddette merendine, giusto? Quindi qual è il suo punto di vista su questo tipo di intervento e di azione? Assolutamente contrario, per un motivo semplice, la ricerca di risorse finanziarie, specie per le regioni, ha creato questo strano collegamento tra un'eventuale entrata fisica...